lo sapete ormai quando mi sveglio così presto e per due motivi o è successo qualcosa di grave o sto per tornare a milano e spesso la cosa grave è che sto per tornare a milano quindi voglio sta cosa che a milano fa più freddo che in calabria non la supererò mai capito non me lo spiego è la giustificazione al fatto che la terra è piatta e bill gates vuole ucciderci con i vaccini capito ma scusa ma come cazzo ti sei vestito sono scocciato di fare questa ironia sulla sfortuna e va detto oggi siamo arrivati a milano primo giorno di zona arancione e per fortuna piove per fortuna piove perché non pioveva da mesi tutta la zona rossa non ha piovuto oggi almeno piove uno può uscire a fare una passeggiata sotto la pioggia che è sempre è sempre bello ciao simo è proprio vero che sono i migliori sempre che se ne vanno ciao simo va bene così ma vedo doppio eh sono due sì sono proprio due uno e due uno e due simone oggi guarda proprio che culo mi viene da dire eh perché per fortuna si è messo a piovere appena sono uscito cioè appena sono uscito si è messo a piovere per fortuna ti immagini che mi prendevo tutto il sole mamma mia vado io a fare la spesa da solo da solissimo se mi rapiscono mi prendono mi uccidono benissimo io andrò a fare la spesa da solo ma quando ti chiamerà la polizia ti dirà il suo fidanzato è morto perché tu non sei voluta a venire a fare la spesa per una spesa per una spesa l'hai ucciso sto povero ragazzo per una spesa